Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 10 settembre e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzinib. Allora, dopo la salita inaspettata di ieri pomeriggio sostanzialmente, siamo arrivati con un quinto di meno 3 ribassista, ovvero rialzista di indice, a 29 candele su media 32, massimo 44, che si può fare l'inverso. Successivamente bisogna vedere se saremo andati in Golden Cross e che cosa voglio di fare, perché qui sembra che questa parte quasi si stacchi da questa partenza effettiva poi di un T settimanale. Però, attenzione, finché non abbiamo una violazione di questo massimo ovviamente non possiamo sbilanciarci e diciamo che comunque la tendenza ci può portare sostanzialmente a una ripresa del livello di Fibonacci attorno a 13.309, poi dovremmo iniziare a sentire che abbiamo fatto veramente una scalata estremamente ripida rialzo e vedere probabilmente la partenza di solo il sesto T-3 inverso oppure un secondo T-1 inverso di minimo 3, massimo 5 giorni anche in questo caso. Ok? Per cui, questa è la situazione attuale, ovvero andremo a vedere dove andremo a fare il top e poi valuteremo con uno swing inverso se andare short o meno. In questo caso opereremo da metodo. La situazione a livello di candele giornaliere, come vedete, è questa. Cioè, abbiamo qui un secondo T-1 partito con un ciclo settimanale che ha fatto 7 barre 8, 9, 10. È strana come cosa, ok? Tendenzialmente dovremmo avere un 7 più qui è sbagliato un 7 più un ciclo che però non vada a troppo salire va bene una chiusura di T-1 anche per quanto riguarda l'inverso ma poi dovremmo avere ribasso, ok? In questo caso, qui siamo arrivati passino appunto a 6 giorni dovrebbe iniziare a scendere questo è quello che dovrebbe normalmente ma se qui c'è stato un qualche cosa un raccordo o altro ecco la faccenda ci complica perché in realtà la partenza vera del quarto T sarebbe da questo minimo qua e non da questo minimo qua E chi ci dice che non stia succedendo qualcosa di inverso? però non iniziamo a girare troppo con la fantasia e vediamo già che cosa farà appunto oggi Cosa molto simile per quanto riguarda il nostro Fuzzinib ovvero siamo andati stiamo andando in chiusura e però siamo a 30 barre di primo T-1 1, 2, 3 e 4 T-3 inversi primo T-1 inverso dovremmo a questo punto avere poi spinta per andare prima a riprendere la media mobile a 200 periodi e poi provare a vedere se c'è forza per andare giù per dare una vera spinta appunto al nostro T-1 anche qui la media mobile a 50 periodi la più veloce prova a tagliare quella 200 ma vediamo se riuscirà a farlo non siamo in Golden Cross questa è la situazione della giornata vi auguro che tutto vada come da vostri trade ci sentiamo probabilmente questa sera la mia sarà una splendida giornata perché ho deciso così e della vostra che cosa volete fare? buona giornata grazie a tutti